Neve annunciata tra il pomeriggio e la serata di oggi a Cremona e subito attivo il piano sale e neve elaborato dai tecnici del comune con AEM. La centrale operativa è già in preallerta per il rischio neve nell'area del nostro comune dove sono previsti nevischi o deboli nevicati isolate anche se senza comuni significativi. Già nei giorni scorsi sono state effettuate le operazioni di salatura delle strade per evitare riformazioni di ghiaccio, lungo il ring, rotatori e sottopassi e vie di penetrazione alla città. L'obiettivo primario del piano è quello di garantire la funzione di sicurezza della viabilità delle strade principali e permettere l'accesso ai servizi pubblici e il loro funzionamento. Ieri sera è stato effettuato lo spargimento del sale per l'azione preventiva con la funzione di impedire l'attecchimento al suolo della neve con nove spargisale a disposizione e ha interessato oltre alle principali vie di accesso alla città i punti critici della viabilità. Nel caso di precipitazioni con accumulo al suolo entreranno poi in azione le 50 lame disponibili con la pulizia delle strade che interesserà contemporaneamente nei limiti di operatività dipendenti dalle circostanze tutte le zone della città.